Ma lo sapevi che per sette italiane su dieci, un caffè è una piccina della vita. Guardare un tramonto così non lo è ugualmente, dà un senso di tranquillità. Come quando faccio il giro con la mia moto, mani sulla monubrio, piedi per terra e poi dopo sei parte per una nuova avventura. Io mi rilasso ascoltando la musica del cantante che tu sai che mi piace molto. Ma perché un bagno caldo nella vasca di massaggio non è rilassante? Io non ce l'ho ancora, ma ne ho vista una a un prezzo interessante al negozio vicino alla panetteria del tuo amico. Ogni volta che passo sento quel buonissimo profumo di pane. Eh beh, il caffè è finito. Torniamo al lavoro in sicurezza, indossiamo i nostri tipi. Già, come diceva Robert Pelton, domani avremo la nostra ricompensa per aver lavorato in sicurezza anche oggi.